Training Camp è una fabbrica di idee, si accede con un'idea ben precisa, si arriva a presentare il pitch finale a un panel di produttori. Pieghiamo ai partecipanti a questa esperienza come devono proprio presentarsi di fronte a una scrivania neanche troppo immaginaria, perché poi alla fine arrivano davvero di editor come devono raccontare se stessi e il proprio progetto. Le mie grandi passioni sono sempre state fumetto, letteratura, cinema e questo è anche un po' il motivo per cui poi sono qui.